Direttore, questa iniziativa è partita dalla Banca Popolare di Sondrio che ha conosciuto Guglielmo Bertarelli in occasione della mostra di Chiavenna. Certo, è un'iniziativa che è partita da noi e che si è sviluppata in occasione di questa ricorrenza della Madonna della Neve. Noi siamo soliti celebrare la Madonna della Neve allo Stelvio perché diventa un momento estremamente significativo, un momento di spiritualità, di comunione tra le persone che vivono tra gli indigeni e i numerosi villeggianti che frequentano l'Alta Valle. Un'opera questa tra l'altro che si inserisce perfettamente in questo contesto naturale che parte dalla terra e abbraccia il cielo. Direi proprio di sì. Lo Stelvio è il punto delle tre lingue e qui vicino abbiamo il Dreisprachenspitz, che sta a simboleggiare l'Italia da una parte, l'Austria da quell'altra e come terzo punto la Svizzera. Questa scultura direi che interpreta perfettamente questa unione diciamo tra tre civiltà, tre culture, tre culture forse direi più che civiltà ed è di grande respiro anche per il futuro. Questo elevarsi al cielo vuol dire che il Dreisprachenspitz può diventare il punto delle 36 lingue, non ha importanza, io me lo auspico, un punto che diventa un'irradiazione cosmica, un'estendere, un'interpretazione che ben si addice alla realtà dei nostri giorni dove sta diventando tutto globale e noi cercheremo di far diventare globale questo messaggio di pace, questo messaggio di spiritualità.